Preghiera a Gesù, a cuore aperto. Caro Gesù, oggi mi rivolgo a Te con cuore aperto e umile, desiderando con tutto me stesso che ogni aspetto della mia vita possa migliorare. So che sei sempre accanto a me, ma in questo momento sento il bisogno di condividere i mie pensieri e le mie speranze con Te, in modo intimo e personale. Gesù, Tu conosci ogni mia sfida, ogni mia paura, e ogni mio desiderio che porto nel cuore. So che sei il mio conforto nelle difficoltà e il mio faro nelle tempeste della vita. Ti prego, mio amato Salvatore, di essere la luce che illumina il mio cammino e la forza che mi sostiene mentre affronto le difficoltà che ho di fronte. In questo momento, ho preoccupazioni per il mio lavoro e la mia carriera. Ti prego di benedire i miei sforzi e di guidarmi verso scelte e opportunità che mi porteranno al successo. Aiutami a essere diligente, saggio e compassionevole nel mio lavoro, affinché possa contribuire al bene degli altri e della mia famiglia. Inoltre, Gesù, ho preoccupazioni per la mia salute, fisica e mentale. Ti prego di curare le mie ferite, sia fisiche che interiori, e di darmi la forza di prendere decisioni sane per il mio benessere. Guidami verso abitudini di vita che favoriscano la salute del mio corpo, della mia mente e del mio spirito. Non dimentico mai le persone a cui tengo. Ti prego di proteggere la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che amo. Benedicili con gioia, pace e amore. Aiutami a essere una presenza positiva nella loro vita, a sostenerli nei momenti difficili e a condividere con loro le gioie della vita. Gesù, so che la vita è fatta di alti e bassi, ma confido in te e nella tua grazia. Ti chiedo di guidarmi lungo il cammino della vita, di darmi la saggezza per fare scelte giuste e di riempire il mio cuore di amore, speranza e gratitudine. Ti ringrazio per la tua presenza costante nella mia vita, e per l'amore infinito che mi doni. Con tutto il mio cuore, ti chiedo di fare in modo che tutto vada bene nella mia vita, secondo la tua volontà. Con amore e devozione. Amen. Questa preghiera enfatizza il carattere unico di questa comunicazione. È una supplica diretta a Gesù, rivolta a Lui come amico, guida e redentore personale. Con l'obiettivo di ottenere il bene nella vita in tutti i suoi aspetti, sia nella sfera professionale che in quella personale, nella salute e nei rapporti con gli altri. Trascende le parole e riflette l'apertura totale di chi la pronuncia, rivelando le proprie speranze, paure e desideri a Gesù. Senza maschere o barriere, un'apertura totale per accogliere la presenza e la guida di Cristo nella propria vita. Iscriviti al canale e segui la fede. Condividi per diffondere amore. Preghiere di luce.